I nuovi contatori sono dotati di tecnologia per la lettura a distanza dei consumi idrici, per la verifica dei flussi e per il rilevamento delle anomalie. L'obiettivo è quello di marcare stretti abusivi e morosi e limitare le perdite d'acqua lungo la rete. L'AMAP ha pubblicato un primo bando per acquistare 145.000 contatori smart. Il progetto, finanziato con 52 milioni dallo Stato nell'ambito del PON, infrastrutture reti, costerà complessivamente 81 milioni e il cofinanziamento dell'AMAP sarà garantito con fondi derivanti dall'utile di esercizio. Entro la fine del 2023 bisognerà completare l'intervento per digitalizzare la rete e distribuzione dell'acqua potabile, effettuare la manutenzione straordinaria sulle condotte, installare i cosiddetti contatori intelligenti per la misurazione dei consumi e i sistemi automatizzati di disinfezione e controllo della qualità dell'acqua. I nuovi contatori, oltre a rilevare i consumi, permetteranno di intervenire sulle utenze morose, limitando o chiudendo totalmente l'erogazione per chi ha rifiutato qualsiasi mediazione per il rientro dal debito.